L'idea è nata con un confronto con Antonella Castagnella e con tutto lo staff del comics. Noi abbiamo voluto ideare una locandina che ricordasse la nostra città e che fosse un mix tra il mondo del fumetto e il mondo reale. Tant'è vero che ho rappresentato la statua principale, quella di Atena Promacos, sulla nostra via marina. L'ho rimpicciolita volutamente e sopra ci ho messo questa misteriosa figura, questo personaggio del mondo dei comics che va a rappresentare tutto quello che è una convention, una fiera del fumetto.